Salve a tutti! Nella nostra terza conversazione sulla filosofia medievale, di questo grande periodo della storia, tutt'altro che buio ma fecondissimo dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista sociale, parliamo adesso del più grande genio del Medioevo, Santo Tommaso d'Aquino. Nell'enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et Razio, Tommaso d'Aquino viene chiamato il maestro del retto modo di fare la teologia, la teologia cioè lo studio di Dio che sostiene la fede perché sostiene la ragionevolezza del credere in Dio. Tommaso fu chiamato Doctor Angelicus, il dottore angelico, forse per la sublimità del pensiero e anche la purezza della vita. Nacque tra il 1224 e il 25 ad Aquino che è presso Monte Cassino e andò a studiare a Napoli in un'università fondata dal grande Federico II dove lì cominciò a studiare Aristotele e lì nacque il suo desiderio nonostante la famiglia lo avesse preordinato a consacrarsi ma per andare a Monte Cassino e possibili diventarne abbate, cioè fare carriera all'interno della vita monastica. Invece lì Tommaso conobbe la spiritualità di Domenico e nacque il suo desiderio di far parte dell'ordine dominicano che Domenico chiamò l'ordo predicatorum, cioè l'ordine di coloro che erano stati fondati per predicare soprattutto contro le eresie. Tommaso fu molto legato ad Alberto Magno, altro grande studioso e traduttore di Aristotele che fu vescovo a Colonia e fu proprio Alberto che non solo tradusse in latino, Aristotele permettendo anche che quella traduzione araba di Averroè fosse fatta meglio e si fosse meno impigliati e necessitati a leggere l'Aristotele in arabo, ovviamente lo si poteva leggere anche in greco e Alberto gli spiegò Aristotele. Le opere di Aristotele erano rimasti ignote fino ad allora al mondo latino e molti temevano nel mondo latino, nel mondo medievale il pensiero di Aristotele perché lo ritenevano un pagano, come pagano in realtà lo era, faceva parte della polis, anzi non proprio della polis, del mondo greco politeista e anche un Aristotele troppo razionale, pensavano che tutto questo facesse male al cristianesimo e poi c'era come l'altra volta il grosso problema di quello che i commentatori arabi, prima di quelli a latini di Alberto e di Tommaso avevano detto di Aristotele, secondo loro Aristotele diceva che gli uomini non dispongono di un intelletto personale, ma solo di un intelletto universale, comune a tutti, che lavora in tutti come unico e quindi negavano totalmente la responsabilità etica personale, una cosa inaccettabile e poi che interpretavano Aristotele dicendo che il mondo è eterno come Dio, quindi non c'era stata una creazione da parte di Dio, ma d'altra parte è ovvio che Aristotele non poteva aver parlato di un Dio creatore. Tommaso da Quino invece è geniale perché mostrò che tra fede, cristiane e ragione sussiste una naturale armonia, questa fu l'opera di tutta la sua vita, proprio per questo Tommaso fu chiamato a Parigi, in un'altra delle università fondate nel Medioevo e lì cominciò la sua prodigiosa produzione letteraria che lo portò a scrivere tanti commenti alla Bibbia, ma soprattutto la sua più grande opera, la Somma Teologica, in cui lui sommava, appunto sintetizzava la maggior parte delle sentenze e delle dottrine teologiche. Il suo fedele e grande segretario per tutta la vita fu Reginaldo di Piperno. Nel tentativo di armonizzare, un tentativo straordinariamente affascinante, la ragione e la fede, Tommaso diceva che il duplice è l'ordine delle scienze, per esempio la matematica e la geometria provengono dal lume naturale della ragione e quindi sono rispettabili come scienze che formano l'uomo, altre invece dipendono da un lume superiore, direttamente dal lume divino e quindi si riferiva in questo alla teologia, ma proprio perché è un lume di una ragione illuminata, la teologia è una scienza perché proviene dalla scienza stessa di Dio comunicata all'uomo. E la fede, in questo armonizzarsi tra fede e ragione, diceva Tommaso, protegge la ragione da ogni sfiducia nelle sue capacità. La ragione umana, sosteneva Tommaso, può arrivare alla certezza di un unico Dio da sola, ma soltanto la fede la può sostenere, nel senso che può arrivare a far comprendere di più di Dio, cioè non solo la sua esistenza, ma anche il suo amore, la sua benevolenza verso gli uomini. Però Tommaso diceva che anche la ragione può aiutare la fede, almeno in tre cose. La prima era dimostrare quelli che lui chiamava i preambula fidei, cioè i preamboli della fede, i fondamenti della fede. La seconda, spiegare con metafore le verità della fede, per esempio un predicatore, la domenica, nello spiegare il Vangelo, utilizza la ragione, perché utilizza le metafore ragionevoli per far capire meglio la parola di Dio. E poi il terzo aiuto, che è la ragione della fede, è proprio rispingere le obiezioni contro la fede, per esempio che la fede sia delle persone stupide e la ragione sia delle persone pensanti. Ecco, una dicotomia, un dualismo che Tommaso rifiuta nettamente. Il linguaggio umano, secondo Tommaso, è un linguaggio per parlare di Dio e delle cose analogico, poiché la distanza tra la mente di Dio e la mente delle creature, o tra Dio e le creature comunque, è infinita, per poterne parlare noi dobbiamo usare un linguaggio analogico che ci permette di dire parole umane su Dio. Anzi, Tommaso, che credeva nella rivelazione della Bibbia, dice che Dio stesso suggerisce le parole nella Bibbia rivelata e nella rivelazione in genere per parlare di Lui e con Lui. E questo rimane, questa del linguaggio analogico, una delle più grandi e ancora oggi attuali obiezioni contro l'ateismo, quello soprattutto molto arrabbiato, che sostiene che il linguaggio religioso è solo puramente, quasi per squalificarlo, un linguaggio affettivo, emotivo, soggettivo e non invece razionale. L'uomo conosce, dice Tommaso, non solo la fisica, la biologia, oppure la funzione fisico-biologica dell'uomo, questa è la grande bandiera della corrente del positivismo dell'Ottocento, ma l'uomo può e è chiamato a conoscere il tu dell'altro, cioè la persona concreta. E questo è possibile alla natura dell'uomo perché è sostenuto dalla grazia divina. Tommaso dice grazia presupponit naturam, ma soprattutto grazia perficit naturam, cioè la grazia si serve di quella natura ragionevole dell'uomo, ma la eleva perché tutto viene elevato, ogni ragione, ogni pensiero dell'uomo, ogni atteggiamento dell'uomo dalla grazia divina. Tommaso fu a un certo punto della sua vita chiamato a Roma, dove compose dei bellissimi testi liturgici per la festa del Corpus Domini su ordine del Papa. Da lui viene il bellissimo inno eucaristico Adoro te devote, latens deitas. Si dice che, e abbiamo delle testimonianze storiche, gli studenti di Tommaso fossero entusiasti. Un alunno addirittura lasciò scritto che le aule contenevano a stento gli alunni e lui stesso ha detto una testimonianza bellissima, dice ascoltare il maestro Tommaso era una felicità profonda, era un uomo anche che non solo sapeva filosofeggiare e scrivere, ma anche predicare molto bene al popolo. Negli ultimi mesi della sua vita, a partire dal dicembre 1273, avvenne un fatto misterioso. Tommaso interruppe ogni lavoro, chiamò il suo fedele segretario Reginaldo e disse che durante la celebrazione di una messa aveva udito dentro di sé che tutto quello che aveva scritto era un mucchio di paglia. Pensate quanto è difficile questo da capire in una conversazione di filosofia. Per fortuna Reginaldo non distrusse, come sembrava Tommaso gli avesse chiesto quello che Tommaso stesso aveva scritto. Morì Tommaso nel 1274 in viaggio verso Lione, nell'abbazia di Fossanova. Il metodo tomista di Tommaso è proprio una distinzione barra sintesi tra filosofia e teologia. I padri della Chiesa, i primi autori cristiani, erano molto più legati a Platone, ma Tommaso non lo era molto. Diceva che il legame con Platone non riusciva ad esprimere una visione puramente razionale, ma troppo costruita nella luce della fede. Quindi Tommaso apre una prospettiva nuova. Apre se stesso ad Aristotele e desidera che attraverso Aristotele si spieghi il mondo anche senza la religione e anche senza la rivelazione. Quindi una filosofia, quella di Aristotele pensata prima di Cristo, poteva estendersi anche alla spiegazione di Cristo stesso. Alla prossima!